Alla Kindarena di Rouen, che è alle mie spalle, nella regione della Normandia, siamo nel nord della Francia, nella città della cattedrale di Notre Dame. Qui l'Italia sfiderà i campioni olimpici della Francia e qui soprattutto l'Italia si giocherà tutte le sue residue chance di qualificazione ai campionati europei di Germania 2024 che si disputeranno nella patria della palla a mano per l'appunto in Germania nel gennaio del prossimo anno. Azzurri che ripartono dalla differenza reti favorevole nella classifica delle migliori terze con due reti di vantaggio sull'Estonia in una classifica però davvero molto molto corta soprattutto con gli azzurri che dovranno mettersi soprattutto alle spalle la sconfitta. Coccente, 31 a 29, il risultato finale di giovedì scorso nonostante l'ottima prestazione contro la Polonia, un risultato che ha qualificato i polacchi ma che nel contempo ha costretto l'Italia a rimanere a questo punto appesa ad un filo legato da un lato al risultato, al divario soprattutto della partita tra Francia ed Italia e dall'altro lato invece ai risultati delle altre squadre con occhio particolare come stiamo vedendo anche in grafica a quello che potrà accadere per quanto riguarda l'Estonia che è la squadra più vicina nella classifica delle migliori terze all'Italia per differenze reti e anche in Norma Cedonia dove la Turchia potrebbe cercare di fare il risultato. In Casa Azzurri nel frattempo c'è sicuramente l'energia giusta per affrontare una partita dove ci sarà il tutto esaurito 5.400 spettatori, una partita che non ha bisogno di motivazioni perché è dagli enormi stimoli sul campo come dicevamo della squadra che ha dominato e continua a dominare la scena della palla a mano mondiale i campioni olimpici della Francia. Ne abbiamo parlato con uno dei protagonisti del campo un guerriero della formazione azzurra ovvero il terzino Davide Bulsamini. Il sogno non svanisce mai, la speranza è l'ultima a morire. Noi veniamo qua per fare la migliore prestazione possibile, per cercare di mantenere questa differenza reti che ci rende favoriti per la qualificazione. Come ogni partita daremo tutto, sono fiducioso, conosco i miei compagni di squadra, so quello che lasceranno in campo e non vediamo l'ora di giocare domani. Sono stati giorni in cui l'Italia, ore più che giorni, in cui l'Italia avete dovuto resettare dopo una partita molto ben giocata che però ha lasciato certamente la mano in bocca. Sì, fa male, continua a far male perché sappiamo i sacrifici che ci sono dietro, sappiamo quanto ce lo meritiamo, quello che facciamo per raggiungere questi obiettivi, però allo stesso tempo devi iniziare a riprenderti, a concentrarti già per la partita di domani perché comunque non dipendiamo totalmente da noi ma comunque ancora dipendiamo da noi per una buona parte e quindi dobbiamo essere lucidi e dobbiamo essere pronti a combattere. Affrontiamo una squadra fortissima, lo sappiamo, già qualificata al tempo stesso. Che partita giocherà l'Italia? Che piano partita metteremo in campo? Per, lo ripetiamo, cercare di tenere il passivo, di stare in partita prima di tutto e poi qualora dovesse portarsi in vantaggio la Francia tenere comunque il passivo il più limitato possibile. Sì, non dobbiamo perdere la nostra identità, la nostra aggressività, probabilmente è convenievole diciamo ridurre un po' il numero di possessi durante la partita e oggi proviamo alcune cose che abbiamo visto durante la riunione. Dobbiamo difendere, difendere come mai abbiamo fatto finora e sappiamo che la difesa è il nostro punto forte e domani lo dovrà essere ancora di più perché comunque loro vorranno senz'altro vincere, il palazzetto sarà pieno, ci sono tanti giovani che devono dimostrare e noi dobbiamo essere lì pronti a fermarli. 45 minuti di grande pala a mano lo scorso 27 aprile al Palasport di Vigevano è da lì che l'Italia vuole ripartire consapevole naturalmente di quello che l'aspetta comunque di complicatissimo, pressoché impossibile dal punto di vista del risultato contro la Francia tra i giocatori, tra i migliori in campo senza dubbio della partita che l'Italia ha giocato contro la Polonia c'è stata l'ala sinistra Gianluca Dapiran, gran partita in generale delle due ali azzurre a sinistra 4 su 5 per Dapiran, a destra 6 su 7 per Umberto Bronzo proprio con Gianluca Dapiran, uno dei senatori di questa squadra, uno dei giocatori di maggiore esperienza anche e soprattutto in campo internazionale abbiamo parlato per rappresentare la sfida contro la Francia per raccontare un po' dello spirito azzurro, dell'atmosfera azzurra in vista della partita contro i francesi. Diciamo che noi prepariamo la partita per cercare di vincerla sappiamo che è una mission impossible ovviamente però noi abbiamo questa mentalità da quando è stato creato questo gruppo e cerchiamo di fare tutto quello che sarà il nostro potere per esprimere la nostra palla a mano chiaro, siamo consapevoli della forza del nostro avversario di conseguenza non ci aspettiamo di poter avere una differenza di reti in positivo sicuramente poi ai fini della qualificazione dobbiamo stare attenti sia al tempo di gioco e anche e soprattutto alla differenza reti per continuare il nostro sogno. L'organico, il gruppo, nonostante la coccente delusione della partita di Vigevano non ha perso la sua unità, la sua compattezza? No, sì, è stata una coccente delusione sicuramente ma ci credevamo e ci abbiamo creduto fino alla fine tanto però penso che comunque abbiamo disputato una partita di livello veramente internazionale contro comunque una formazione di livello come la Polonia e ci siamo stretti ancora di più vicini perché nonostante il risultato non ci abbia premiato sappiamo che abbiamo fatto un'ottima prestazione e dobbiamo ripeterla domani qui su questo bellissimo campo e dobbiamo restare uniti come abbiamo sempre fatto fino ad ora. Alle mie spalle l'ultima seduta di allenamento la prima alla Kinder Arena di Ruen ma anche di fatto l'ultima perché poi domani la nazionale scenderà in campo ore 18, gara che si giocherà in diretta su Sky Sport Arena canale 204 della piattaforma Sky e nel contempo in live streaming in chiaro gratuito quindi su Eleven Sports che partita giocherà l'Italia? Sicuramente una partita diversa ce lo dice e ce lo dirà tra poco il direttore tecnico Riccardo Trilini diversa per impostazione perché l'obiettivo sarà quello di contenere quanto più possibile il passivo quindi cercare anche in qualche modo di abbassare il numero dei possessi complessivo consapevole l'Italia della grandissima forza della Francia una Francia che non è al completo mancheranno tanti grandi nomi rispetto soprattutto alla Francia che abbiamo affrontato all'andata non ci saranno Dicamem, Nedim Remili non ci sarà nemmeno Nicola Karabatic che è stato risparmiato dal tecnico Guillaume Gil tanti giovani, alcuni esordienti ma anche nomi come quelli di Melvin Richardson Dylan Nye o Nicola Tournant giocatori noti e utilizzati in maniera sistematica in Champions League quindi non si può parlare di seconde linee quando si parla di Francia dicevamo una partita diversa dal punto di vista tattico dal punto di vista dell'approccio sul campo per quanto riguarda l'Italia non dal punto di vista dell'approccio mentale come abbiamo capito e ascoltato prima nelle parole degli azzurri Davide Bulsamini e Andrea Dapirana adesso è il momento però di ascoltare proprio Riccardo Trillini il direttore tecnico azzurro Obiettivamente per noi sarà questo l'obiettivo tenere un risultato più vicino possibile tra le due squadre chiaramente non staremo con le orecchie da altre parti perché dovremmo sforzarsi al massimo per poter raggiungere questa situazione l'unica cosa è sapere se un po' cosa succede soprattutto in alcune gare dove la squadra che è in questo momento in testa oppure qualificata potrà giocare con una squadra rimediata diciamo così per noi però dobbiamo fare solo il nostro abbiamo una speranza e ce la dobbiamo giocare è una Francia diversa da quella dell'andata non per questo meno forte su questo non ci sono dubbi anzi forse motivata dal fatto che tanti giocatori nuovi vorranno mettersi in evidenza a che partita invece giocherà l'Italia per cercare quantomeno di come dicevamo tenere il passivo il più ridotto possibile riguardo questo le seconde linee della Francia sono delle linee fortissime non sono come le seconde linee della Macedonia tanto per fare l'esempio e qui sta la grossa differenza tra tutte le terze che andranno a giocare in casa di una qualificata noi andiamo a giocare in casa della Francia dove le seconde linee sono fortissime dove vorranno dimostrare di meritare però devo essere anche onesto dicendo che preferisco impostare una difesa su Richardson rispetto a Comem stiamo parlando di super campioni però a mio modo di vedere giocatori come Remili e Mem sono immarcabili quasi quindi abbiamo la possibilità quantomeno di continuare a fare il bel lavoro che stiamo facendo in difesa indubbia la delusione dopo la partita di Vigevano ma che energia hai respirato in queste ore nel viaggio che ha portato la squadra in Francia e alla vigilia della partita? sono stato un po' sorpreso perché nonostante la delusione forte abbiamo ricevuto gli apprezzamenti da chi ci ha visto giocare e questo è tanto per un allenatore però chiaramente il dopo dell'illusione si è ancora concretizzato con una possibilità questa possibilità che ci vogliamo giocare domani giocando in una maniera un po' diversa dell'Italia vista sempre diciamo così perché per tenere basso il risultato dovremmo quasi sicuramente rinunciare al gioco veloce fare un attacco lungo, posizionale in maniera che abbassando il numero di possessi si possa riuscire più a giocare appunto su migliori possibilità e dunque questo è il nostro racconto della vigilia azzurra qui alla Kind Arena di Ruen vi ricordo l'orario di inizio domani della sfida che avrà lo start alle ore 18 si giocherà sempre qui gli spalti però alle mie spalle saranno completamente gremiti 5.404 spettatori è la capienza esatta di questo impianto verranno celebrati grandi giocatori che hanno fatto la storia della pallamano francese al mio fianco intanto sentite l'allenamento degli azzurri e quindi l'inevitabile carica agonistica celebrati dicevo grandi giocatori a partire da Luc Abbalo che sarà tra gli ospiti di questa grande sfida quindi sicuramente una grande serata di pallamano con l'auspicio che possa essere una serata memorabile in modo particolare per la pallamano italiana noi la vivremo insieme ve la racconteremo in diretta su Sky Sport Arena come detto canale 204 dalla piattaforma Sky su Eleven Sports e anche sulla pagina Facebook della FGH da Ruen per il momento è tutto l'augurio non cambia rimane il solito buona pallamano a tutti